Il nuovo Flexible, frutto dell'ascolto dei nostri clienti, è la nostra risposta alle loro esigenze. Le loro sfide ci hanno stimolato a pensare in grande e ad espandere la nostra gamma con un modello innovativo per raggiungere performance superiori. La superficie di presa è la più ampia del mercato degli alimentatori flessibili e gestisce componenti più grandi e complessi con estrema velocità e precisione. La nostra continua innovazione mira ad aumentare l'efficienza di tutti i clienti che scelgono Flexible per i loro progetti.